Prendo diversi farmaci, ho avuto un infarto, un ictus, oppure sono malato di cancro, dovrei vaccinarmi? Allora il vaccino è raccomandato per tutti, l'unica controindicazione assoluta alla vaccinazione è uno shock anafilattico a una delle sostanze che sono contenute nel vaccino, allora è controindicato, altrimenti è indicato per tutti vaccinarsi. Se uno ha, come detto, nella popolazione di studio, nei vaccini a vettore, l'AstraZeneca che al momento è in commercio da noi, non aveva tante persone con patologie croniche, per cui si preferisce vaccinare al momento molto vulnerabili con il vaccino mRNA. Però se uno prende dei farmaci, per esempio, per un ipotiroidismo, per una ipertensione ben controllata, senza danno d'organo e così via, è possibile senza problemi usare anche il vaccino a vettore di AstraZeneca. Mentre una patologia non tanto stabilizzata, con una immunocompromissione abbastanza più forte, al momento si raccomanda usare l'altro vaccino. Con queste ulteriori informazioni stabilisce quale vaccino usare e se vaccinare oggi o posticipare la vaccinazione. Si consiglia assolutamente per chi prende farmaci o è affetto da delle patologie croniche di portare dietro i nomi o commerciali o i nomi del principio attivo, ma comunque di sapere esattamente il farmaco che prendono e anche le patologie dalle quali affetti, e eventualmente in che stadio, se ben compensate o meno compensate.